Ottobre si è chiuso con l'ennesimo annuncio negativo per gli studenti dell'Ateneo, la mancata copertura delle borse di studio per l'anno accademico 2011-2012. Correndo le graduatorie provvisorie pubblicate sul sito dell'Azio, vi è solo una distinzione tra idonei, non beneficiari e non idonei. La copertura attuale per l'erogazione delle borse corrisponde allo 0%. Azione Universitaria L'Aquila ritiene che questo attacco frontale verso gli studenti sia inammissibile. Non siamo disposti a fare un passo indietro, finché non vengano garantite le regolari borse agli idonei e venga fatto lo scorrimento di quelle dello scorso anno accademico che ancora non sono, clamorosamente, ferme al 60%. Il mese di ottobre è negativamente segnato anche dalla chiusura improvvisa e dir poco ingiustificata della mensa universitaria di Bazzano, unico punto di ristoro presente nei pressi della Facoltà di Lettere e Filosofia. Un altro problema che si torna a sollecitare è quello delle corse dedicate e gratuite agli studenti. Infatti il flusso degli studenti pendolari è ancora troppo elevato, data la mancanza di alloggi sia pubblici che privati, eppure non viene ancora fatta chiarezza sulla continuità delle tratte dedicate che darebbe a molti studenti la certezza di poter frequentare regolarmente. Azione Universitaria richiede alle autorità competenti, quale Regione Abruzzo, Azzu e Rettore, di ripristinare le condizioni necessarie allo svolgimento della regolare attività didattica.